Tutti i tuoi video li didi tu? Quasi tutti Ora è da un po' che non sto editando perché non c'ho più il tempo Nelle giornate Perché sto organizzando più cose Quanto godo Più o meno Matt E ho detto gli indizi Ha giocato nel Milano e in Premier League E non è